Compagnia e unione Questo sabato sera uscirò con alcuni amici In questo ristorante non si può entrare con il cane In questo ristorante non si può entrare con il cane Luisa prende il caffè con lo zucchero Preparo la pasta con le zucchine Mezzo Poiché c'era lo sciopero dei treni sono venuto con la macchina Preferisco viaggiare con la nave piuttosto che con l'aereo Preferisco viaggiare con la nave piuttosto che con l'aereo La Sicilia è raggiungibile con il traghetto che parte da Reggio Calabria Sicilia è raggiungibile con il traghetto che parte da Reggio Calabria Modo Quella bella ragazza cammina con eleganza Quella bella ragazza cammina con eleganza Faccio questo lavoro con passione Faccio questo lavoro con passione I bambini ascoltavano con attenzione la maestra I bambini ascoltavano con attenzione la maestra Abbiamo accolto il nuovo anno con tanta gioia e speranza Abbiamo accolto il nuovo anno con tanta gioia e speranza Causa Con questo caldo non riesco a fare nulla Con questo caldo non riesco a fare nulla Con tutto il lavoro che hai fatto È normale che tu sia stanco Con tutto il lavoro che hai fatto È normale che tu sia stanco È difficile trovare una soluzione con questa brutta situazione È difficile trovare una soluzione con questa brutta situazione Qualità Seist Ho comprato un caldo pigiama con le maniche lunghe Ho comprato un caldo pigiama con le maniche lunghe Teresa indossava una camicetta con il collo coreano Teresa indossava una camicetta con il collo coreano Davanti al bar c'è un anziano con la barba bianca Davanti al bar c'è un anziano con la barba bianca Mia suocera mi ha regalato dei piatti con il bordo dorato Mia suocera mi ha regalato dei piatti con il bordo dorato Pena Pena L'omicida è stato punito con il carcere a vita Satsujin Han ha sciuxin kei ni shosareta Pena 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 Pena